no ragazzi ho trovato un team decente anche l'unico game che ho giocato male io dalla giornata era con teammates incarriabili l'unico che mi sento di aver perso e di meritare di perdere comunque i teammates c'hanno schifo come è possibile che anche nei peggiori game di Caracas ci sono dei peggiori team questo è l'unico game che abbiamo beccato un bel team c'era Pyke ecc questi erano decent facciamone un ultimo dai questa volta c'è Reckless in squadra dai pillato ovviamente support perché non sia mai non sia mai dovesse giocare bene con me in squadra I can dodge ma no perché doggiare? non c'è un motivo di questo perché dovresti doggiare? mi sa che devi campionare il challenge ragazzi non è vero sto giocando bene se stessi giocando male ce l'avrei con me ho giocato bene tutti i game sono contento il challenge adesso no lo si fa oggi o lo si fa domani e non solo facciamo il challenge ma c'è i 1000 LP dai 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 però per essere contro Cfend Larsen e Reckless non abbiamo fatto un bel brutto game prima no abbiamo il Solmain abbiamo Panteon Top abbiamo Reckless AC abbiamo Ma간 Kane è sulla nostra squadra forte non sono proprio convintissimissimissimissimissimissim pre prendo ma cacchio no? prende solo QBeast oh ancora contro C dawn e il Quantrick Bard e Sadi e Inspired e QOB oh guarda number play play in questa squadra full lack game Questo mi lanciala eh Il nostro brand morirà almeno 8 volte No no dai no 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 Mi dissocio da questo pantone per favore Dai veramente ragazzi Che è sta storia? Perché una lane che sta vincendo ragazzi? Brand Reckless Hey let's go Grandi ragazzi Le lane che vincono no dai Dai veramente dai Non mi viziare così E dai faccio la pe triste Io non salto di là Tu salti di là hai capito? E dai Senti ma non è che sei costretto Out out Tranquillo Hai visto brand? Fighissimo quello che ha fatto Davvero coraggioso Però fighissimo Vai Reckless Tu chaser Io tasso That's how we do it Ah qua esistono dei vandami Ma che cacchio devono mid lane Pagliacci Torna a tremere al circo Va L'ho accompagnata solamente per essere certo Che nessuno intercettasse la wave 2 packet ma wave Adesso da cosa che gli rispondo Do you know What else I'd like to fuck Assolutamente niente La risposta è questa Apologize Per la wave presa Dai sto scherzando Sto scherzando Mica mica dico niente Cosa Come si dice Siamo salvi entrambi Oh nice Te l'aspettavi questa eh Oh shit Ah Barde Pda 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 I AM EVERYWHERE Fa male la mano Sto carriendo drop bust SON MORT Avevo pure la GA, mannaggia Mmm, Akali È difficile da ammazzare E poi Bard E Reanekton col TP Ah, il TP di Reanekton mi ha fregato, cacchio Abbiamo Brand Cacchio sei veloce con Brand il Baron, secondo me Oh, ho svegliato, cazzo Ho fatto prendere da me Ah, sì, 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 sì Sempre, sempre gli altri Eh, Reckless, wow, Reckless, wow Fenomeno Reckless E Fragola E Fragola Vabbè, Reckless è tutto bene questo fight Lo concedo Ho perso lo carro Oh, porca miseria Ho perso il carro Io voglio ammazzare Caps Perché il game Perché vincere il game Voglio ammazzare Caps Vieni qua Caps Vieni qua Caps Vieni, vieni Caps Sì, ma Akali è broken Allora Caps sarà anche bravino Ma Ah, madaggia Anche game è broken Anche game è broken Assolutamente anche game è broken Ciao Ah, no, anche nel flash Però aspetta No, ma che tanto game è broken Io riesco a scappare Che è broken No, no, ma ti pescerebbe, vero? Sì, 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 sì Ok Beh, comunque abbiamo preso il flash di Caps È la zona Nerfate Bard Oh, pack Cacchio, potevo salvarmi tranquillamente qui Ma guarda il Bard Guardalo, guardalo, guardalo Non ne ho messo una Schiposo di un Bard No, bro, troppo di Psy Guarda me dove siamo Guarda dove siamo noi Di questi champion che dashano Io mica li capisco Ah, Caps è morto Oh, io ho Smiteato, Saddi Pecca di questo 5 livelli sopra Inspired Lek Mai ass E non intendo Assolutamente niente Cioè, volevo dire Che non merita essere Lek, no? Cioè, se lo merita lui Allora lo merito anch'io Ok, non Lek Nel senso Come Lek Come Lek Come Lacy Ciao 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 Ma io sono sulla Pink E qua, Caps Eccolo, Caps Oh, finalmente Ti mostri per quello che sei Senza la nube di fumo Scherzo GG, GG Ah, cacchio Finalmente Un rank che è carriabile Perché non solo Carrio Ma ho qualcuno Che mi è venuto a carriare Un player che mi è venuto a carriare Vedi com'è facile Lek Se sia in 2 1v9 2v8 Eh? Eh? E' facile, Cacchio E adesso che A chi All'anno Tutti questi Leccati Ah, 14 Ma è vero rovinato, guarda Ma è vero rovinato Per una losing streak È finita Ciao, ciao Al sogno Ma guarda i micidi Guarda i micidi Guarda che game Perdo Non è possibile Che abbia perso Questi 3 game Veritavo di vincere tutti Anche questo Veritavo di vincere Questo Veritavo di perdere Questo Di vincere 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 L'ho vinto Questo Di vincere L'ho vinto Tutti gli altri Disastro Ok, ok Non fa niente Non fa niente Lo so Lo so Il bard è il rank 4 Lo so che stream Ci abbiamo Ci ho fatto qualche 2 Insieme al bardo Eccolo qua Birbanti di bard E come carica il bardo Porca miseria Oh, questa volta c'è Mickey Il mio amico Mickey Mickey è l'unico Come in friend list E G2 Per ora 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 E G2 E G2 E G2 E G2 Per ora E G2 Per ora E G2 Per ora E G2